Il secondo appuntamento di Aspettando il 2 luglio, il tradizionale format di TRM Network, ha portato nuovamente in tutte le case la preparazione delle celebrazioni in onore di Maria Santissima della Bruna. La trasmissione, condotta da Antonella lo Signore, continuerà tutte le sere fino al 30 giugno alle ore 21. Ad aprire la serata, insieme alla conduttrice, c'è stata Zia Bruna, il celebre personaggio interpretato dall'attrice materana Lia Trivisani. Lo storico Francesco Foschino ha proseguito le sue indagini, svelando aspetti poco conosciuti delle origini del culto della Bruna. Serata arricchita anche dalla musica della Fratelli Tutti Band, guidata da Fra Giampari De Nappi, cappellano della Casa Circondareale di Matera e collaboratore dell'Equipe Diocesana di Pastorale Giovanile. Tra gli ospiti, Vincenzo Pace, presidente dell'Associazione Disma, che ha presentato il giornale Scatenati oltre l'errore, realizzato da alcuni detenuti del carcere locale. Don Michele La Rocca ha illustrato l'iniziativa della Peregrinazio, della Statua della Madonna della Bruna. Maria Paola De Santis, in collegamento dalla fabbrica del carro nel rione Picciarello, ha parlato con i curatori di un rilievo digitale dello scheletro massiccio, la struttura linea che compie 70 anni e su cui ogni anno viene costruito il carro trionfale in cartapesta. Che festa della Bruna sarà? Chi meglio del presidente dell'Associazione Bruno Caiella può rispondere a questa domanda? Simpatico il siparietto nel salottino, con Zia Bruna, che precede la poesia della Bruna con Dino Paradiso, che ha incontrato la confraternita dei pastori. Basilicata Creativa, cluster delle industrie culturali e creative lucane, ha presentato un progetto di spettrografia sul quadro dei pastori, mentre l'artista Francesca Cascione ha approfondito altri aspetti del carro trionfale, da lei realizzato. Infine, spazio ad una delegazione dell'Associazione Maria Santissima della Bruna, a Duccio Santo Chirico, già autore del carro trionfale in cartapesta negli anni passati, impegnato attualmente in laboratori di artigianato solidale. Chiusura tra balli e canti e appuntamento a questa sera alle 21 per una nuova intensa appuntata. Grazie a tutti.